69 hotel, 84 ristoranti, 62 agriturismi, 9 bed and breakfast, 3 campeggie e 7 rifugi. Questi numeri in provincia di Cuneo del Marchio Ospitalità Italiana 2019, consegnato ad un totale di 232 strutture ricettive e ristorative, di cui 6 premiate per la prima volta, nel corso di un convegno svoltosi nella suggestiva cornice dell'antico palazzo comunale di Saluzzo. L'incontro è stato anche l'occasione per fare il punto sul turismo nella Granda, un settore che prosegue il suo trend di crescita costante, richiedendo agli operatori turistici servizi di accoglienza sempre più qualificati e in linea con la modernità. In questa direzione va il Marchio Ospitalità Italiana ideato da Union Camera e ISNARD e promosso dalla Camera di Commercio di Cuneo, così come l'intensa azione di accompagnamento verso la digitalizzazione che l'ente camerale cunese ha da tempo avviato nella consapevolezza che è un'adeguata gestione delle nuove forme di comunicazione, sia ormai un fattore determinante per lo sviluppo delle imprese turistiche. Innovazione, qualità, accoglienza, strumenti che devono essere sempre più messi in campo per poter migliorare questa proposta straordinaria della provincia di Cuneo, nella sua complessità, dove gli operatori del settore dell'accoglienza, della ristorazione, degli agriturismi, dei campeggi, tutto questo grande mondo del turismo, possano trarre con questo marchio di qualità che gli viene assegnato dalla Camera di Commercio in collaborazione con l'ISNARD un elemento in più da poter in qualche modo mettersi in vista presso un mercato globale che sempre di più guarda noi con grandissima ammirazione e con grandissima attenzione. Le nuove sfide saranno come comunicare un mondo differente per attrarre i consumatori che saranno sicuramente interessati al prodotto che c'è qui, perché il prodotto che c'è qui è valido, è forte e ha una sua grandissima identità che è quella che chiedono i consumatori del mondo. Si tratta di farlo capire e comunicarlo nel miglior modo possibile. Devo dire che in questi anni possiamo ritenere veramente che i risultati raggiunti sono stati al di là di ogni aspettativa, ma vogliamo continuare, vogliamo continuare sulla missione che ci siamo posti, che è quella di raggiungere un numero di turisti naturalmente sempre maggiore, ma soprattutto un numero di turisti sempre più consapevole, sempre più rispettoso del patrimonio dell'umanità che stanno visitando. Un turismo che sta crescendo costantemente di anno in anno, ormai qualche anno che registriamo sempre segno positivo, merito di un territorio unito che sa promuovere benissimo il proprio patrimonio, ma merito credo soprattutto di queste imprese che sono state premiate oggi, che grazie alla loro capacità, alla loro grande professionalità riescono a fidelizzare il turista, farlo rimanere felice e soddisfatto quando viene nel nostro territorio e soprattutto farlo tornare. Quindi un turismo che sta crescendo e che ha delle prospettive sicuramente molto ma molto positive.